Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. In aula una mozione per la tutela di risparmiatori e investitori dalle conseguenze del decreto cosiddetto salva banche. Approvata all'unanimità una mozione che impegna la Giunta regionale ad intraprendere tutte le misure necessarie affinché il Governo tuteli i risparmiatori e investitori che si sono di fatto trovati a pagare gli effetti della risoluzione della crisi bancaria della Banca Popolare dell'Etruria e di quelli ipotizzati per altri istituti di credito che si trovano nella medesima situazione. La mozione, presentata in forma urgente dal capogruppo di Forza Italia Raffaele Nevi, è stata poi condivisa e sottoscritta da tutti gli altri gruppi Partito Democratico, Socialisti e Riformisti, Umbria più uguale, Ricci Presidente, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. L'atto interviene sull'azzeramento del valore delle obbligazioni bancarie in conseguenza del decreto legislativo 180 del 2015, il cosiddetto salva banche, che sta producendo la perdita per tanti risparmiatori dei risparmi di una vita, che in molti casi rappresentano l'unico mezzo di sostentamento per i soggetti interessati. Nei molti interventi in aula è emersa la necessità di azioni del Governo nazionale tese a salvaguardare i risparmiatori, insieme alla esigenza di un diverso e più incisivo ruolo del credito, alla tutela effettiva del risparmio e dall'esercizio di una più efficace e puntuale azione di controllo sulle banche da parte dei soggetti istituzionali a ciò preposti. L'Assemblea legislativa dell'Umbria invita il Governo italiano a farsi promotore, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima in corso a Parigi, di più decise politiche di riduzione delle emissioni di CO2, programmandole e attuandole rapidamente in modo strategico in tutti i settori economici. E' questo uno degli impegni assunti dall'Aula di Palazzo Cesaroni, approvando all'unanimità la mozione predisposta dall'Ufficio di Presidenza e integrata con alcune modifiche proposte dal consigliere Raffaele Nevi. Un documento già approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative e fatto proprio da 12 regioni italiane. Ampia discussione in aula sulla mozione presentata dai consiglieri Rometti e Biancarelli per risolvere il problema dell'inquinamento dei fiumi Marroggia, Clitunno, Timia e Teverone. Voto definitivo rinviato alla prossima seduta. L'Assemblea Legislativa ha discusso la mozione proposta dai consiglieri Silvano Rometti, gruppo socialisti, e Giuseppe Biancarelli, Umbria più uguale, che impegna la Giunta regionale ad adottare tutte le iniziative necessarie per risolvere il problema dell'inquinamento dei fiumi Marroggia, Clitunno, Timia e Teverone, collaborando con le istituzioni locali, i comitati e i cittadini interessati. Nell'atto si chiede di riattivare quanto prima il tavolo di confronto sul contratto di fiume e rafforzare il percorso di prevenzione dell'inquinamento, nonché il coordinamento con tutti i soggetti interessati. L'atto, integrato da un emendamento proposto dal capogruppo del Partito Democratico, Giacomo Leonelli, riguardante il monitoraggio dei depuratori e degli scarichi idrici autorizzati, nonché l'installazione di centraline di monitoraggio, come suggerito dal Comitato dei Cittadini, sarà votato nella prossima seduta d'aula. Anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati, ha chiesto un ulteriore approfondimento dei dati riguardanti la contaminazione diffusa che riguarda tingimenti e potabilità e quindi tornare sull'argomento una volta completata tale ricognizione con i responsabili degli enti preposti al controllo e per verificare anche questioni tecniche riguardanti il declassamento dei fiumi oggetto della mozione. Introdurre un pedaggio sulla E45 per i camion. L'aula approva a maggioranza. Introdurre sulla E45, anche nelle more di avvio degli interventi del contratto di programma regione-ministero in via di definizione, entro la fine del 2016 un pedaggiamento selettivo a carico dei mezzi adibiti al trasporto merci e superiori a tre tonnellate e mezza che attraversano la regione, per reperire risorse da destinare per finanziare interventi di miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell'arteria. E quanto prevede la mozione rivolta alla giunta di Palazzo Donini, affirma Marco Squarta, Fratelli d'Italia, Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle e Raffaele Nevi, Forza Italia. Il testo è stato modificato con un emendamento sottoscritto dai proponenti e dai consiglieri Leonelli e Rometti, che ha raccolto le indicazioni emerse durante il dibattito d'aula, portando il termine a fine 2016, prevedendo una verifica di fattibilità con gli altri enti coinvolti e specificando ulteriormente che il pedaggiamento riguarda i mezzi in transito non provenienti o diretti in Umbria. Illustrando l'atto di indirizzo, Marco Squarta ha spiegato che la E45, da tempo penalizzata dalla mole crescente di traffico dei mezzi pesanti, che scelgono di percorrere questa arteria in luogo dell'autostrada A1, traffico che ha finito per connotare la E45 come vera e propria camionabile. Hanno invece avanzato riserve, sull'ipotesi di pedaggiamento, i consiglieri della Lega Nord e Ricci Presidente, che ne hanno messo in dubbio l'efficacia e la concreta praticabilità. Su proposta del capogruppo del Partito Democratico, Giacomo Leonelli, l'aula ha deciso a maggioranza con 15 voti favorevoli di Partito Democratico Umbria più uguale socialisti riformisti, tre voti contrari del Movimento 5 Stelle e Mancini Lega Nord, un astenuto Squarta dei Fratelli d'Italia, il rinvio in seconda commissione per la mozione che puntava a impegnare la Giunta contro la realizzazione di impianti geotermici pilota nella piana dell'Alfina. L'atto di indirizzo portava la firma di Emanuele Fiorini, Lega Nord, Raffaele Nevi, Forza Italia, Claudio Ricci, Ricci Presidente, Giuseppe Biancarelli, Umbria più uguale, Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle, Marco Squarta, Fratelli d'Italia, Giacomo Leonelli del PD e Silvano Rometti, socialisti e riformisti. Il rinvio è stato spiegato, si rende necessario perché l'atto è piuttosto tecnico ed è dunque opportuno un lavoro di approfondimento da parte della commissione. Approvata a maggioranza la mozione a firma dei consiglieri regionali Chiacchieroni, Solinas e Rometti sulla adozione di iniziative da parte della Giunta regionale per il rafforzamento e l'incremento dei servizi forniti dal SEU, il Servizio Europa Umbria. È stato il primo firmatario dell'atto Gianfranco Chiacchieroni a illustrare le motivazioni per cui rafforzare le funzioni svolte da SEU, adeguando nella forma societaria in modo tale da incrementarne i livelli di imprenditorialità ed efficienza. SEU ha spiegato si occupa di fondi europei relativamente a formazione e progettazione ed ha costruito in questi anni di attività una rete consolidata di relazioni nazionali ed europee. In ragione di ciò è considerato che la Giunta regionale impegna quasi tutte le energie e risorse del proprio apparato per la gestione dei fondi strutturali europei si rivela estremamente utile e opportuno rafforzare e incrementare i servizi forniti da questa agenzia partecipata dalla regione. In aula anche il portavoce delle opposizioni Claudio Ricci ha sottolineato come nel quadro evolutivo che già da ora sta portando alle macro regioni tali enti diverranno agenzie intermedie nel quadro dei rapporti tra Unione Europea e singoli stati. Quindi è importante rafforzare tali servizi anche a beneficio di tutti quei comuni cui serve maggiore conoscenza tecnica in materia di fondi, soprattutto di quelli non strutturali verso i quali si può avere accesso diretto a condizione di averne maggiore consapevolezza, cosa che al momento rappresenta un punto debole di molte amministrazioni locali. In prima commissione arriva la proposta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle sull'innalzamento dei canoni concessori pagati dalle società che sfruttano l'acqua pubblica per produrre energia elettrica. La prima commissione dell'Assemblea legislativa presieduta da Andrea Smacchi ha ripreso la discussione della proposta di legge firmata da Maria Grazia Carbonari ed Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle sull'innalzamento dei canoni concessori pagati dalle società che sfruttano l'acqua pubblica per produrre energia elettrica. Il provvedimento mira anche a trasferire ai comuni su cui insistono derivazioni di acqua pubblica per finalità di riqualificazione ambientale, l'80% di quanto incassato dalla regione Umbria, a riaprire in modo permanente la cascata delle marmore, riducendo magari la portata durante la notte ma senza mai interromperla, valorizzando l'enorme potenziale turistico attualmente inespresso. Gli uffici dell'Assemblea hanno elaborato una prima istruttoria da cui è emerso che la regione Umbria incassa circa 5,4 milioni di euro all'anno di canoni idroelettrici. Il consigliere Liberati ha chiesto di analizzare quanto avvenuto nelle altre regioni rispetto ad accordi e convenzioni con le società che utilizzano l'idroelettrico, di vedere poi come vengono gestite le cascate legate ad impianti idroelettrici nel resto del mondo e chiarire la reale portata del bacino idrografico e gli effetti dell'apertura della cascata tutto il giorno, ricordando che l'energia prodotta non viene neppure utilizzata sul nostro territorio. La seconda commissione ha dato il via libera, con i voti della maggioranza, al piano regionale dei trasporti 2014-2024. Gli emendamenti invece verranno presentati direttamente in aula. Con i voti dei cinque commissari della maggioranza, Guasticchi, Leonelli e Smacchi del Partito Democratico, Rometti dei Socialisti e Riformisti e Biancarelli di Umbria più uguale, il voto contrario di Liberati, il Movimento 5 Stelle e la non partecipazione al voto di Ricci, Ricci presidente e Fiorini della Lega Nord, la seconda commissione presieduta da Giuseppe Biancarelli ha dato il via libera al piano regionale dei trasporti 2014-2024, che approderà in aula per il voto finale, nell'ultima seduta dell'Assemblea Legislativa, prima della pausa natalizia. Relatori in aula saranno Giuseppe Biancarelli per la maggioranza, Claudio Ricci per centrodestra e liste civiche, Andrea Liberati per il Movimento 5 Stelle. Rimarcate da parte dei commissari le posizioni già enucleate nelle precedenti riunioni con quelli delle centrodestra e liste civiche, che hanno motivato la loro non partecipazione al voto in commissione per perfezionare l'operazione in aula, dopo aver verificato le posizioni della maggioranza rispetto alle proposte emendative che presenteranno. Gli emendamenti, alcuni dei quali già annunciati in commissione, potranno dunque essere presentati direttamente in sede di discussione assembleare. Ribadita la presentazione in aula dell'emendamento già illustrato nelle scorse settimane da Giuseppe Biancarelli di Umbria Piuguale, Andrea Smacchi Partito Democratico, Claudio Ricci, Ricci Presidente ed Emanuele Fiorini della Lega Nord, che prevede rispetto al raddoppio della ferrovia Orte-Falconara una variante alla progetto che interessi il territorio eugubino-Gualdese, collegandolo con l'aeroporto di Perugia. Tra le proposte emendative annunciate dalla coalizione del centrodestra e liste civiche, la configurazione dell'area dell'aeroporto di Perugia come centro intermodale che preveda una stazione ferroviaria per convogli a velocità 180-200 km orari e raccordi logistici con le strutture stradali afferenti alla rete quadrilatero Umbria Marche, nonché al nodo di Perugia, nuovo tratto Corciano-Madonna del Piano con le strada. Slitta ancora il voto definitivo in terza commissione sulla proposta di legge enorme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, di iniziativa dei consiglieri del Partito Democratico Chiacchieroni, Leonelli e Solinas. Il consigliere Sergio De Vincenzi del gruppo Ricci avanza richiesta di improcedibilità per carenza di rendicontazione finanziaria, nonostante gli uffici legislativi abbiano ritenuto legittima la norma finanziaria introdotta con un nuovo articolo a seguito dell'assestamento di bilancio approvato dall'Aula che prevede 50.000 euro di risorse per il 2016. Per De Vincenzi la proposta di legge regionale è comunque in contrasto con la legge dello Stato 196 del 2009 che sancisce l'individuazione di risorse pluriennali, mentre in questo caso non è possibile sapere quanto inciderà negli anni successivi. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari hanno deciso di ritirare la proposta di legge approdata in Aula sulla riduzione delle indennità e di ripresentarla immediatamente per farle iniziare l'iter in commissione. La decisione è stata presa dopo un confronto della conferenza dei capigruppo con l'ufficio legislativo di Palazzo Cesaroni che aveva emesso un parere sull'atto dal quale emergevano problematiche di tecnica legislativa che consigliavano modifiche del testo di legge. Presentato a Palazzo Cesaroni il volume di Domenico Sorrentino, laudato sì dal cantico di Frate Sole all'enciclica di Papa Francesco. La Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, ha partecipato alla presentazione del libro Laudato sì dal cantico di Frate Sole all'enciclica di Papa Francesco, scritto dal Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino. La manifestazione, che si è tenuta nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, è stata introdotta da Maurizio Terzetti, presidente dell'Associazione Civium, che ha organizzato l'evento. Oltre all'autore, hanno partecipato al dibattito anche padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, e la portavoce del sindaco di Assisi, Paola Gualfetti. Alla presentazione erano presenti anche alcune classi del liceo artistico Bernardino Di Betto, dell'Istituto Capitini, dell'Istituto Pascale e del liceo classico Mariotti. Il libro di Monsignor Sorrentino, ha detto la Presidente Porzi, può aiutare tutti noi a riflettere su quello che abbiamo e diamo troppo spesso per scontato, lo splendido creato che ci è stato dato, e a voi giovani spetta il compito di costudirlo e preservarlo. Quella di San Francesco è una figura che ci riguarda tutti, che ci rende orgogliosi di essere umbri. Per Monsignor Sorrentino, questo lavoro è una meditazione sul cantico delle creature di San Francesco, una perla letteraria e religiosa. Quando ho sentito che Papa Francesco lo ha scelto come filo conduttore della sua enciclica, ho sentito una spinta interiore a riflettere su come vivo quotidianamente il cantico, su come questo può essere vissuto da tutti noi. Ma il volume vuole anche essere una riflessione su quanto possono dare il cantico e l'enciclica alle politiche dell'ambiente. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive locali della regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e su YouTube. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per l'attenzione e arrivederci.